Il giorno buono per voi Ma siccome erano pronti per questa bisogna, si trattava di consumare i sacri... Il show è un uomo a piedi che tira in un... Bene, siamo attornati dagli oggetti che fanno parte ormai del studio delle persone L'idea che possa esserci anche una parte Intanto la vocazione è una parola molto bella, molto laica